Consigliere Scurati, in commissione territorio in cui si è parlato con le varie agenzie di trasporto pubblico locale a proposito dell'aumento del biglietto di 2 euro a Milano, lei ha avanzato un dubbio. Bisogna considerare quanto pagheranno di più le persone che prendono sia il ATM, i mezzi ATM che i treni. Esatto, perché poi senza parlare di altre mille cose mi interessa andare sul concreto della situazione da cittadino appunto residente in provincia di Milano, la domanda è stata abbastanza secca, cioè se hanno calcolato quanto verrà a spendere di più un cittadino che comunemente può utilizzare due mezzi per arrivare al posto di lavoro, per motivi di studio e quindi recarsi a Milano, quindi treno e ATM. Alla fine non ci è dato sapere se appunto una persona decide di spostarsi anche saltuariamente utilizzando i mezzi quanto spenderà di più, perché il problema è uno solo sul quale appunto non si vuole affrontare chiaramente per ragioni politiche, che la regione va tracciato un percorso molto lineare quello di introdurre la tariffazione integrata, unica, dandosi come step quello del 2021. Milano invece per ragioni di bilancio ha voluto fare la fuga in avanti, infatti è passato l'aumento del biglietto a 2 euro, che vuol dire aumento del biglietto legato ad ATM con tutte poi chiaramente l'agevolazione a livello di abbonamento, ma lasciando fuori la parte legata al trasporto su ferro, quindi ai nostri pendolari che prendono i treni tutti i giorni. Quindi è sicuramente stata un'occasione mancata, si è sacrificato appunto sull'altare delle ragioni di Milano quello di poter fare un progetto che potesse tener conto delle esigenze di tutti i pendolari e quindi è stata un'occasione sicuramente mancata con il biglietto unico.